960.888 euro è il contributo che erogherà la regione Lombardia per il sistema turistico delle Orobie Bergamasche. Il progetto sviluppato dalle comunità montane, con ente capofila la comunità montana della Valle Seriana, è stato finanziato insieme ad altri due sistemi turistici della nostra provincia, il primo denominato Bergamo, Isola e Pianura Bergamasca, il secondo sublimazione dell'acqua. La provincia di Bergamo, dell'agrodotorio regionale, si conferma il territorio più premiato per i sistemi turistici lombardi, con una totale di 2.716.000 euro. Riguardo al nostro sistema turistico delle Orobie, nonostante al momento della stesura siano stati richiesti anche interventi dei privati, sono stati finanziati solo progetti pubblici. Arrivano risorse per lo Iato di Ponte Nossa, per i forni fusori di Gavazza di Val Bondione e per la chiesa di Santo Spirito di Casnigo. Sentiamo il presidente della comunità montana della Valle Seriana, Eli Pedretti. Mi fa doppiamente piacere il sapere che la regione ha riconosciuto il nostro lavoro, doppiamente in quanto uno va a finalmente premiare la montagna Bergamasca, le cinque comunità montane si vedono premiate di questo lavoro, due doppiamente soddisfatto perché la cabina di regia è stata ben gestita dai nostri uffici e ben coordinata dall'assessore Fratte che è il mio delegato sulla partita. Devo dire che sono estremamente contento perché in un momento di crisi portare a casa 960.000 euro sono sicuramente dati importanti. Vanno a premiare progetti che sicuramente daranno lustro e importanza sia culturale che turistica alla nostra valle. Ma arriveranno ingenti fondi anche sul nostro territorio. Quali progetti ne beneficeranno? Innanzitutto la sistemazione dell'ufficio turistico IAT di Ponte Nosse viene totalmente rifatto e riqualificato. Avevamo chiesto 100.000 e sono stati concessi 50.000. Questo è sicuramente un premio alla nostra volontà di creare proprio questo punto che non solo di informazione ma di accoglienza. Altro intervento di sicuro respiro e sicuramente storico è il recupero di antichi forni fusori di Gavazzo. Il primo lotto nel Cuni Valbondione stiamo parlando di 178.500 euro. E un altro importante intervento è il lavoro di recupero della Chiesa, ex Chiesa Santo Spirito, opere complementari nel Comune di Casnigo per un importo pari a 44.000 euro. Sempre nell'ex Chiesa di Santo Spirito e secondo lotto a Casnigo sono ben 106.500 euro. Di modo che possiamo dire che la nostra comunità lontana viene sicuramente, non dico premiata, soddisfatta delle sue esigenze. Un motivo in più per essere orgogliosi nel voler riqualificare alcuni percorsi storici, didattici, culturali, nell'attesa che la crisi ci possa passare sopra e dare respiro, perché noi contiamo molto sull'accoglienza turistica, sul turismo di cultura, di religione e soprattutto anche un turismo verde e sciabile.